Buongiorno a tutti, allora per la felicità dei soliti i miei follower che dicono che mi fanno le pizze pazze, questa penso che piacerà perché c'è dentro Worcester, Gamberetti, Carciofini, Mozzarella di Bufala, Bresaola e probabilmente anche qualche altro ingrediente che adesso non mi sovviene. I frutti di mare, giusto, quindi c'è un po' di tutto e di più ma soprattutto la bufala che è uno spettacolo. L'altra sera ne ho seggiato un pezzettino, era veramente qualcosa di eccezionale, quindi... Comunque adesso come al solito attendo i soliti commentini molto simpatici che mi fate sulle pizze del pizzaiolo, che avete anche usato dire non chiamarlo pizzaiolo, come vi permettete. È pizzaiolo certificato, 100%, solo che per me fa queste pizze molto particolari che... Sono particolari. Naturalmente c'è il menù classico e vi prendete quello, poi se ne volete in particolare c'è la possibilità. Adesso mangio che ho fame e la notte è ancora lunga. Ciao!